Signor Scott, mi crede, quello che lei è riuscito a fare in questa terra selvaggia è davvero straordinario. Tutto il progresso qui lo ha portato lei. Troppo buona, signora Volker. Ho bisogno di parlarvi in privato. Giovanotto, come vedete sono con ospiti. Sarò lieto di parlare con voi, ma un altro giorno. Ora vi prego di scusarmi. Eh? Non hai sentito? Vattene via. Vattene via! Oh! Ho bisogno di parlarvi in privato. Vattene via. Vattene via. Vattene via. Vattene via. Grazie a tutti.